E' arrivato il sì con 20 voti favorevoli e 3 contro da alcuni dell'opposizione per la mozione presentata da Marcello Antonelli della maggioranza come rappresentante di Forza Italia per l'attivazione dell'operazione Strade Sicure con l'esercito a Pescara nel centro città e nelle zone periferiche. Sul tema abbiamo sentito i sindacati di polizia che spiegano nello specifico come funziona l'attivazione dell'operazione e quanto possa essere utile al territorio. Si parla tantissimo della percezione della sicurezza da tenere alta ma qual è la reale situazione su Pescara per quanto riguarda l'organico della polizia? Gli organici di tutti gli uffici della polizia di Pescara sono in forte carenza e sono diversi anni che come SIURP andiamo rivendicando un necessario aumento, incremento di personale perché tutti gli uffici sono in sofferenza e abbiamo una carenza media che si attesta sul 30% con previsioni future che sono tutt'altro che rose perché a fronte di ingressi limitati con le nuove assunzioni i pensionamenti sono di misura molto maggiore. La mozione per l'attivazione dell'operazione Strade Sicure ma qual è il vostro punto di vista a riguardo? Il nostro punto di vista è assolutamente contrario. È una posizione che abbiamo da tempo perché a Pescara questa soluzione è stata già attivata molti anni fa con risultati che non hanno portato a nessun beneficio. E' per noi un costo che andrebbe investito in tutta alta direzione cioè nell'incremento degli organici e delle risorse di cui ha bisogno tutti gli uffici di polizia. Una risposta dall'intero gruppo politico dopo i diversi eventi di cronaca tra delitti e accoltellamenti che hanno costellato l'estate pescarese che non ha trovato terreno fertile per la votazione unanime. I prossimi passaggi vedranno impegnato il sindaco Carlo Masci all'inoltro della richiesta in prefettura e in questura ma la decisione spetta al governo. Data anche l'insufficienza dell'organico delle forze dell'ordine presenti su tutto il territorio provinciale è arrivata questa soluzione già proposta in più occasioni e da diversi anni da Domenico Pettinari. Difatti il gruppo civico ha votato l'iniziativa a differenza di alcuni esponenti del PD come Piero Giampietro e Michela Di Stefano votando contro insieme alla stensione di Francesco Pagnanelli e Marco Presutti alla quale Simona Barba avrebbe replicato che la problematica della sicurezza andrebbe combattuta con la cultura. Un'estate segnata anche da interventi di Federalberghi sulla movida molesta che danneggia l'immagine del turismo regionale. Grazie a tutti.